musica e non è stata presa ti chiamo coco concentra te concentra il coco no, centra te basta c'è il panno ancora la terza cosa c'è ahahahah vedete eh, eh, lo so ma che, l'avitamento è cambiato l'impianto metta se è conto spese nooo coco, ai 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 coco fare l'itto si, senza letta un tentativo uno, uno la supplico un tentativo mi scusi via davanti via coscienza di dio ho preso coscienza di dio chi lo ha che gira e si gira chi ti ha offriso la birra? mi è la mia come prima però chi lo ha che gira e si gira la parte chi lo ha che gira e si gira la parte ahahahah 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 staj Non mi sembrava di mai fare nella prima. E, ma dai! Non consuma i energetici! Vamo subito neanche bene. Volev filmati, ma? Ona! Ma! Eee! 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 No, sorry.